3 ordinarie saldi in tutti i reparti, saldi uomini, l'uomo dei tuoi sogni, in offerta speciale. Vuoi fare un incandino con me a Madrid o mangiare una ragosta in Kenya? Sciastare, sti borghesi di merda, prendi me. Tu lo sai cos'è la realtà virtuale? Hai mai visto i film di Romer? Io ho fatto la campagna del barlotto del Kansas. Molto lieto. Cavalier Sabioni. Prenda questo, è senza conservanti, non fa un male. Va bene, lo prendo. Vai, vai, su, la signora ti vuole. Allora. 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 Grazie a tutti.